E siamo sulle note dei Live Hit come canzone, un brano estratto dall'ultimo album, nonché è il primo dei The Hijackers. Qual è questo gruppo? Chi sono i musicisti? Stiamo parlando dell'artista Steve Taboga. The Hijackers, infatti, i dirottatori, è un marchio creato da Mr. Steve Stefano Taboga, cantante e bassista dei The Mad Scramble. Nasce come band che raduna un compendio di vari musicisti di diverse estrazioni e percorsi musicali, uniti da una passione comune, fare ottima musica, proponendo un prodotto che spazia tra i vari generi, tra cui rock, blues, soul, R&B. Data la flessibilità del gruppo, si propone in diverse formazioni, dal duo alla Big Bang, arrangiando ogni volta i pezzi dei vari set. Il 2019 è l'anno del loro primo album. Come potete notare il ritmo è veramente molto interessante, si possono ascoltare questi brani in qualsiasi circostanza, trasmettono una grande carica. Vi invito quindi, se vi ho incuriosito, a collegarvi sul link che vi metterò qui sotto e, perché no, magari anche ad acquistare l'album. Salutiamo l'etichetta MusicForce e al prossimo video. Ciao!